Benvenuti su pokeritaliaworld.org, siamo in diretta dal casino Barriere qui a Deville, questa splendida cittadina in Normandia, in Francia, per seguire con noi, con il boss e il profeta, questo EPT Day 1A, Deville 2010. Come vedete ci sono ancora tutti i preparativi, si inizierà alle ore 12 locali, la sala è enorme, il casino come sempre è bellissimo, me lo ricordavo sono stato qui io a fare il blogger per pokeritaliaweb anche lo scorso anno, sono ritornato con piacere quest'anno, si preannuncia un day a tutto esaurito, ci arrivano giungono notizie che saranno 450 giocatori presenti, quindi veramente tantissimi, almeno quelli che si aspettano qui dal casino Barriere, quest'anno a differenza dello scorso anno sono due le sale, c'è una sala A con 35 tavoli, come vedete, e una sala B che poi vedremo più avanti con 15 tavoli. Vediamo un po' di fare un giro per la sala, solo per farvela vedere, facciamo un giro tutti insieme, e vado verso la sala stampa, come vedete, welcome to EPT de Ville, e ci vedremo con il day 1.